Buongiorno, sono Antonio Morselli della Nuova Videosuono, siamo i distributori per l'Italia di Bitec, siamo qui allo stand Bitec alla ISE 2012 di Amsterdam, dove Bitec espone la gamma dei suoi prodotti e diverse novità, tra cui una particolarmente interessante è questo stand trolley per schermi touch che può essere utilizzato per il posizionamento e l'utilizzazione degli schermi con interfaccia al tocco che sono un po' il prodotto di moda in questo periodo, come sempre con la gamma Bitec è possibile configurare i supporti per vari elementi secondo le necessità del momento, per cui è possibile trovare soluzioni per praticamente qualsiasi esigenza. Fiera come sempre è interessante, devo dire che gli italiani si spererebbe sempre che ce ne fossero di più, invece non sono mai moltissimi.